Oggi lunedì 28 aprile il Papa Francesco ha ricevuto le loro maestà il re Juan Carlos e la regina Sofia di Spagna. Durante i cordiali colloqui sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e la Spagna, andate sempre più consolidandosi secondo lo spirito degli accordi del 1979. In tale contesto si è fatto riferimento ad alcune questioni di attualità che riguardano la missione della Chiesa nella società e la situazione del Paese. Non è mancato inoltre uno scambio di vedute su tematiche di carattere internazionale con particolare riferimento ad alcune situazioni di crisi.